Israele contro l'UNESCO, Gerusalemme sospende qualsiasi cooperazione con l'Organo delle Nazioni Unite dopo una controversa risoluzione che non riconosce i legami con il Monte del Tempio, così come gli ebrei chiamano la spianata delle moschee, a Gerusalemme e il Muro del Pianto. Il Comitato Esecutivo ha sancito che questi due luoghi sono sacri solo per la religione musulmana, provando l'utilizzo del solo nome arabo. Un portavoce dell'UNESCO prova a spiegare le tensioni in seno alla Commissione, ma l'impressione è che le polemiche suscitate da una decisione che sembra più dettata da ragioni politiche che da motivi culturali restano. Da qui la rabbia del governo israeliano con il premier Netanyahu e la decisione di interrompere qualsiasi collaborazione con l'Organo delle Nazioni Unite. Così il premier Netanyahu. E' una risoluzione assurda e l'UNESCO ha perso quel poco di legittimità che aveva, ma credo che alla fine la verità storica sarà forte e sarà quella che prevarrà. La risoluzione presentata dai palestinesi è stata approvata da 24 paesi, 26 si sono astenuti. Il documento afferma che il Monte del Tempio è sacro solo per i musulmani, senza menzionare che è santo anche per gli ebrei. Grazie. Grazie.